Si è chiusa con successo presso la sede di RDR Attore del Greco la seconda edizione del PCTO, un percorso per le competenze trasversali e di orientamento con gli studenti dell'Istituto Colombo. Questa mattina la consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi. Ai microfoni di TV City l'amministratore delegato dell'azienda Luca Serena spiega le finalità dell'iniziativa. Siamo molto contenti ed orgogliosi per il secondo anno di poter aprire questo progetto RDR Forum Institute che è il connubio tra azienda ed istituti quindi dare la possibilità di un stretto collegamento tra il mondo dell'industria e il mondo della formazione e quest'anno abbiamo anche la partecipazione attiva del centro per l'impiego di Torre del Greco che si è unito a noi in questo percorso di dare un'opportunità ai giovani di entrare in azienda, di conoscere l'azienda e di crearsi quello che può essere un futuro lavoro per loro. Siamo contenti di poter dire anche che il percorso dell'anno scorso ha portato alcuni ragazzi a essere poi assunti in RDR quindi questa è la prova che non è solo un percorso teorico ma è un percorso pratico che crea occupazione che è l'obiettivo finale penso di un istituto di formazione. Un consiglio che puoi dare ai giovani? Di essere molto curiosi rispetto a quello che è RDR, pochi conoscono quello che c'è dietro i cancelli di questa bellissima azienda che è il quarto operatore italiano che ha quasi 300 dipendenti che è un'eccellenza che viene premiata a livello nazionale anche con il premio che ci hanno consegnato quest'anno presso Borsa Italiana, il premio Best Managed Companies di Deloitte e quindi l'invito che faccio ai giovani è venite a vedere che bella realtà c'è qui e venite a unirvi a voi in questa opportunità che RDR può dare a tanti giovani che hanno voglia di crescere, voglia di fare un percorso professionale insieme a noi. Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Lucia Cimmino. Secondo anno di collaborazione dell'Istituto Colombo con la RDR, questo PCTO come è andato? Il PCTO è un percorso per le competenze trasversali e di orientamento che è dato a tutti gli istituti questa possibilità di svolgere questi percorsi. Questo percorso è una metodologia formativa che richiede soprattutto una viva e reale ma soprattutto costante collegamento con le aziende del territorio. L'Istituto Colombo ha fatto questo, cioè ha creato questo collegamento costante con l'RDR che ha permesso ai nostri ragazzi di partecipare a un'attività con le aziende che è un'azienda che ha avuto uno sviluppo economico a livello nazionale e non solo locale ma soprattutto ha implementato la propria tecnologia e questo ha richiesto dei tecnici e questi tecnici con nostro orgoglio li attinge dall'Istituto Colombo. Per noi questo naturalmente rappresenta un modo per inserire con facilità i nostri ragazzi nel mondo del lavoro. Infatti chi si iscrive al nostro istituto deve comprendere che le possibilità occupazionali non sono solo quelle delle vie del mare che poi rappresenta comunque uno dei settori dove c'è la possibilità di essere remunerati veramente ad alto livello. Però i ragazzi che si iscrivono all'Istituto Colombo hanno la possibilità soprattutto di inserirsi nelle aziende che hanno bisogno di tecnici esperti di elettronica, elettrotecnica e soprattutto meccanica. Infatti noi abbiamo designato questa rotta e io spero che nei prossimi anni venga comunque effettuato di nuovo il progetto proprio per far sì che i nostri ragazzi possano inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. Spero che attraverso il trasferimento dell'Istituto Nautico presso la nuova sede e la qualifica professionale, il ripristino della qualifica professionale al terzo anno per l'Istituto professionale IPMAT, si possa avere un nuovo impulso a tutto il settore perché i ragazzi hanno bisogno di certezze e questa azienda è una certezza per loro e non solo di promesse. Queste esperienze infatti rappresentano per loro una cosa fondamentale perché loro attraverso queste esperienze possono incominciare a programmare il loro progetto di vita. Grazie per la visione!